Ciao a tutti, sono Dio Spiritarot, scusatemi tanto, sono stata via da YouTube per un po' e mi dispiace, però non mi sentivo ispirata a fare video perché non so mai che cosa chiedere. Oggi la domanda è molto aperta, allora, diciamo che ho capito che mi piace molto fare video su domande del tipo, l'universo ha questo messaggio per te, però mi rendo conto che tante persone vogliono sapere cose sull'amore, quindi ho deciso di fare video aperti sui messaggi da parte dell'universo però sull'amore, quindi questo è un messaggio per quanto riguarda la situazione amorosa. Allora, abbiamo tre scelte oggi, abbiamo la scelta numero 1, la scelta numero 2 e la scelta numero 3. Scegliete con calma e iniziamo con la numero 1, vediamo un attimo cosa hanno da dire gli angeli su questa domanda sull'amore o questo messaggio d'amore. Allora, abbiamo la carta che dice sì con il punto esclamativo. Allora, guardando questa carta, questo sì così importante, può essere che abbiate una domanda del tipo, incontrerò la persona giusta, oppure è questa la persona giusta se già conoscete qualcuno, oppure appunto arriverà l'amore? La risposta è sì con il punto esclamativo. Questo punto esclamativo per me significa che questa cosa è una cosa che ha un'urgenza di un certo tipo, quindi anche una fretta di un certo tipo. Di conseguenza vedo che comunque è una cosa che potrà accadere in tempi molto molto ristretti, parliamo da qui magari a un mese, ok? Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi, gruppo numero 1, su questa vostra situazione. Cos'è che ha, cos'hanno gli angeli da dirvi per quanto riguarda l'amore? Allora, abbiamo il 2 di denari. Vedo che c'è una situazione di indecisione, quindi o tu stai pensando a due persone diverse, oppure non riesci a decidere se una persona fa per te o meno. Un'altra situazione potrebbe essere che ti trovi in un periodo in cui hai le mani un po' piene, in cui hai molti impegni, in cui ti senti stressata o stressato. Di conseguenza è un periodo un po' turbolento per te questo. E quindi non riesci a vedere chiaramente quello che ti sta attorno, non riesci a mettere un ordine nella tua vita per quanto riguarda la situazione sentimentale. Forse questo stress che hai in generale nella vita ti fa avere questa sensazione di non essere in controllo della situazione. Diciamo che proprio non sai bene cosa fare, perché non riesci a vedere chiaramente la situazione. Però abbiamo questi oracoli che ti dicono sì, purtroppo le mie carte cadono oggi. Andiamo a vedere che altro c'è da parte dei tarocchi per il gruppo numero 1. Comunque sì, qualsiasi sia la vostra domanda, alla fine se avete una domanda, sì, col punto esclamativo è la vostra risposta. Ecco di nuovo è uscito il 7 di coppe, quindi vedo proprio che si rinforza questo pensiero che c'è qualcosa che non va a livello di chiarezza, non riuscite bene a vedere con chiarezza, non riuscite a decidervi. Non so dirvi se questo dipende molto dall'altra persona. Penso che questo dipenda proprio da te, dal fatto che tu sei molto confusa. C'è una confusione, ma in questa confusione tu hai una domanda. E la risposta a questa domanda da parte degli angeli è sì. Andiamo a vedere se c'è altro per il gruppo numero 1. E abbiamo l'otto di denari. L'otto di denari, probabilmente questa è una situazione... Vediamo un attimo se c'è una chiarificatrice per questo otto di denari. Ok, allora può essere che il motivo per cui siete confuse, per cui sei confusa in questa situazione è perché stai chiedendo consiglio su una persona che per te è difficile da leggere perché questa persona la vedi un po' immobile. Nel senso che ti manda segnali un po' misti. Nel senso che tu pensi che questa persona ha interesse nei tuoi confronti, dall'altra parte però non vedi che questa persona ci sta mettendo il lavoro o ci sta provando, insomma. Mi viene da dire, il messaggio che mi sta arrivando è che ognuno di noi ha un certo pensiero o diamo comunque un certo... come si dice? Come veniamo corteggiati? È una cosa abbastanza soggettiva e personale. Ci sono persone che dicono no, io quando inizio una relazione faccio tantissimo ma dall'altra parte magari questa cosa non è abbastanza perché l'altra persona è abituata a cose un pochettino più plateali, diciamo. questa persona di cui stiamo parlando e la persona a cui stai pensando perché c'è una persona qua è una persona che non è molto passionale non è un romantico, diciamo è una persona molto razionale è una persona razionale che anziché offrirti notti di passioni o notti insonne o emozioni tipo farfalle giganti nello stomaco è una persona che ti offre stabilità è una stabilità emotiva, affettiva una stabilità anche, diciamo, economica è una persona equilibrata però vedo che tu non riesci a vedere il lavoro che questa persona sta mettendo in questa relazione o situazione in cui sei perché i tuoi canoni sono diversi da quelli di questa persona per questa persona l'offrirti qualcosa sta nell'offrirti una stabilità un futuro tu, secondo me, cerchi la cosa un pochettino più diciamo chimica, passionale di pelle selvaggia, diciamo però questa persona non è così e io penso che il tuo dubbio nasca da questo nasca da questa persona interessata a me probabilmente perché nel passato hai avuto a che fare con persone che erano, diciamo, tutto fumo e niente al rosso o persone che facevano vedere tutto questo interesse questa passione questo ti conosco da 5 minuti ma ti voglio sposare e di conseguenza per te quello è il corteggiare sei abituata ad essere corteggiata così e non riesci a vedere l'interesse di questa persona ma in realtà c'è interesse da parte di questa persona forse è un amore un po' meno bambino forse è un amore un po' meno ragazzino diciamo che è un amore un pochettino più maturo questo una relazione più matura che comunque cresce piano piano su basi completamente diverse da quelle che potrebbero essere magari di una persona che ha 18-20 anni ecco vediamo cosa hanno da dire le carte degli angeli vediamo per il gruppo 1 ok allora queste carte dicono di esprimere il tuo amore vedo proprio un probabilmente perché perché sei confusa e non riesci a capire se questa persona ha interesse nei tuoi confronti può essere che non riesci a a esprimere il tuo amore forse perché hai paura di esporti per prima nel senso magari ti piacerebbe capire se piaci a questa persona prima di esprimere dell'interesse ecco questa persona ha interesse nei tuoi confronti il messaggio dell'universo per quanto riguarda l'amore è di far vedere che anche tu hai dell'interesse nei suoi confronti che è ok mostrare interesse nei confronti di questa persona e di esprimere il tuo affetto e di esprimere il tuo amore di non avere paura di essere rifiutata vediamo un attimo che altro c'è ok abbiamo la carta della papessa la carta della papessa rinforza tantissimo ancora di più questa cosa che ci sono cose non dette in questa situazione probabilmente questa persona è una persona che non riesce tanto a esprimere i suoi sentimenti come abbiamo detto è una persona estremamente razionale abbiamo la carta della papessa qui è il fatto che comunque c'è una verità nascosta c'è qualcosa che non viene detto e io penso che la cosa che non viene detta in questa situazione sono i sentimenti che questa persona ha per te forse 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 dovresti essere tu la parte femminile di questa di questa coppia di questa situazione e quindi dovresti essere tu quella che esprime l'amore che esprime fragilità che fa vedere comunque che c'è una sorta di non mettersi in gioco ma di neanche fragilità ma di come possiamo esprimerla questa parola che ce l'ho sulla punta della lingua insomma cercare di costruire di avere un'intimità con questa persona per fargli capire che è ok penso che comunque sei tu che dovrai fare il primo passo per quanto riguarda l'espressione di emozioni ok devi semplicemente accettare che questa persona sotto quel punto di vista è un pochettino più lenta un pochettino più riservata diciamo che questa è una persona per esempio che anziché per esempio una persona che è più estroversa e più passionale vuole dimostrarti il proprio amore quindi ti dice sei bellissima ti amo da morire ti fa un sacco di complimenti ti dice mi fai sentire così mi fai sentire cosa invece questa persona qua è una persona che per dimostrarti il suo amore ti dice non lo so ti dice viene a casa e ti dà un regalo ecco è una persona che dimostra l'amore in quel modo ti compra magari non ti compra i fiori però ti compra qualcosa ti fa un pensiero oppure una persona che magari esce la mattina e prima di andare via ti prepara il caffè cioè sta proprio è una persona che non parla molto è di poche parole però però l'affetto c'è e il consiglio dell'universo è di farti avanti ed essere tu la prima persona a dimostrare questo 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 affetto e questo amore ok gruppo numero uno grazie mille per aver guardato se ti è piaciuto metti un like se non ti è piaciuto mi dispiace andiamo avanti con il gruppo due gruppo due allora questa è la carta che tu hai scelto per la tua lettura andiamo a vedere cosa hanno da dire gli angeli per quanto riguarda la tua situazione sentimentale in questo momento allora abbiamo una carta che ti dice che arriverà una risoluzione pacifica a questa situazione guardando questa carta mi viene da pensare che c'è una situazione di non contatto con qualcuno o una situazione in cui appunto c'è stato un litigio c'è stato qualcosa che ti ha portato a litigare o allontanarti da una persona ora gli angeli vogliono farti sapere che in realtà ci sarà di nuovo un contatto con questa persona e che tutto si risolverà per il verso tutto andrà bene ok andrà tutto bene tutto si risolverà qui stiamo parlando di situazioni amorose può anche essere che magari non c'è una persona in questo momento non stai pensando a nessuno in particolare ma stai semplicemente pensando ma io cioè rimarrò così a vita o troverò qualcuno ma arriverà qualcuno nella mia vita la risposta è sì andrà tutto bene non ti preoccupare andrà tutto bene però mi viene più da pensare che in realtà chi ha scelto questa carta sia una persona che si trova in una situazione in cui ha avuto a che ridire ha avuto delle parole poco piacevoli con qualcuno andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi per questo gruppo numero due vediamo un po' darò chi per questo gruppo numero due ok un sacco di persone scusate si è spenta la telecamera comunque dicevamo che beh parto da capo perché si è spento stavo parlando da sola questa è una situazione che vi viene da dire ha a che fare con una rottura con una persona da cui ti vedevi da poco tempo era una relazione giovane parliamo di settimane o mesi ok quindi una cosa molto molto una relazione giovane diciamo vedo che siete a un punto di stallo in cui nessuno dei due sta mettendo del proprio in questa cosa nel senso che comunque questa cosa è nata si è fermata lì e nessuno ci sta nessuno ci sta lavorando nessuno dei due diciamo che tu stai aspettando un passo da parte di questa persona entrambi siete persone comunque molto orgogliose secondo me tu sicuramente sei più passionale più emotiva o emotivo la persona di cui parliamo è una persona che è un pochettino più diciamo forse non mostra proprio le emozioni ecco è una persona comunque abbastanza che ha un ego può avere un ego abbastanza grande ecco diciamo vedo che comunque ci sarà un riavvicinamento con questa persona e vedo che comunque tu stai proprio aspettando però questa persona in questo momento proprio non vuole contattarti nel senso che sta aspettando che lo faccia tu e tu penserai stai fresco però questa è la situazione allora l'oracolo comunque sull'amore dice che la situazione si risolverà come non lo so come si risolverà sta cosa ok allora sì c'è questo momento di distacco vedo che comunque c'è un momento di distacco e penso che questo momento di distacco sia dovuto a una cosa che è successa tra di voi sicuramente non ci vogliono i tarocchi per dirlo però ci sono tante cose non dette in questa situazione o forse ci sono tante cose che non vengono capite siete persone diverse giorno e notte proprio e sia tu che lui non riuscite a capirvi proprio nel senso che siete molto diversi dovete trovare un modo per comunicare io penso che questo modo per comunicare scusate continuo a spegnersi la telecamera comunque vedo che c'è una situazione in cui non riuscite a capirvi secondo me siete due persone molto diverse quasi come il giorno e la notte quindi proprio c'è un problema di comunicazione qui un problema proprio di siete entrambi forse abituati a stare da soli e di conseguenza fate fatica però c'è da mettere il lavoro in questa situazione ok perché se vi impegnate in realtà tutte e due questa è la relazione che ti porta alla stabilità io penso che questa sia una relazione matura tra due persone insomma non ragazzini ma di una certa età e penso che quando si arriva a una certa età a ricominciare una relazione o a rimettersi in gioco in amore o avere qualcuno comunque nella propria vita dopo tanto tempo che si è da soli è difficile è difficile proprio però bisogna smussare un pochettino questi angoli metterci un po' del lavoro sicuramente se arriva a una risoluzione tra voi due ci sarà un riavvicinamento e un allontanamento da questi problemi e queste incomprensioni che continuano a ripetersi e ci sarà comunque questa calma questa stabilità che entrambi cercate l'uno dall'altra comunque perché entrambi volete la stessa cosa ci va solo un pochettino di tempo e di pazienza e qui abbiamo il nove di bastoni questo nove di bastoni va ancora una volta a sottolineare quanto entrambi abbiate le difese alte in questa situazione può anche essere che questa non è una storia tra due persone di una certa età può anche essere che siete entrambi giovani però avete avuto delle esperienze importanti o siete entrambi soli da tanto tempo avete entrambi comunque le difese molto molto alte e di conseguenza ci sono tante cose che non vengono dette un po' perché non si vuole mostrare la propria fragilità un po' perché è difficile rimettersi in gioco dopo tanto tempo però appunto vedo che entrambi avete queste difese molto alte che bisogna comunque abbassare se si vuole raggiungere qualcosa in questa situazione ok questa viene dall'universo viene indicata come una relazione che è con una persona del passato oppure una persona con cui ho avuto una relazione in una vita passata può essere che quando hai incontrato questa persona ti sembrava di conoscerla da tempo e probabilmente questo è quello che ti ha portato ad avvicinarti a questa persona ad avere curiosità nei confronti di questa persona perché forse è stata la prima persona dopo tanto 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 tempo che ha instillato instigato una sorta di curiosità in te ti sembrava di conoscerla questa persona appena l'hai vista e probabilmente il motivo è perché già la conoscevi in questa vita o in una vita passata andiamo a vedere se c'è qualcosa che gli archetipi gli archetypes vogliono dirci da questo mazzo fantastico cos'è l'attributo su cui magari dovresti lavorare tu che stai guardando ok qui abbiamo un escapismo quindi un evadere dalla realtà allora evadere dalla realtà ad avere un senso di eroismo falso cosa vuol dire cosa vuol dire non lo so se a te questa cosa se per te significa questa qualcosa questa cosa forse per te è difficile accettare di aver bisogno di una persona nella tua vita però forse il problema non sta neanche nel dire ho bisogno di una persona nella mia vita forse potresti lavorare sul fatto che sei un essere umano e che non c'è niente di male nel volere una persona tanto che non è un simbolo di debolezza avvicinarti a una persona o fargli vedere che c'è dell'interesse magari può andare contro tutto quello su cui tu o per cui tu hai lavorato negli ultimi anni probabilmente stando comunque da sola per tanto tempo hai fatto del lavoro su te stessa o su te stesso e ti sei comunque bastata da sola e ti sei detta non ho bisogno di nessuno e forse questo è un problema perché magari ti fa avere le difese molto alte quando conosci un'altra persona perché non sai più come essere vulnerabile quando c'è una persona o forse non lo so ti sembra una cosa sbagliata mostrarti vulnerabile perché ci hai messo così tanto a lavorare su te stessa che questa cosa va contro tutto quello che hai sempre detto e fatto però questo è un senso di è una cosa un po' falsa forse questa è una cosa su cui dovete lavorare entrambi scusate quale carte cadono ho cercato di creare una specie di altare ma non ha funzionato vediamo cosa deve lavorare lui allora lui potrebbe avere dei problemi economici oppure potrebbe essere spaventato e dire non voglio mettermi nessuno in caso e iniziare una cosa con nessuno perché non ho la stabilità economica di cui ho bisogno per affrontare una vita con un'altra persona e di conseguenza non vogliono mettersi in gioco forse questa persona si vergogna di avere una situazione economica un po' instabile mi viene da dire vediamo se c'è un ultimo consiglio magari che gli angeli vogliono darti gruppo 2 ok il consiglio è di chiedere aiuto da altre persone se hai amici che ti sono vicini che ti ascoltano prova a chiedere aiuto prova a chiedere consiglio prova a parlarne con i tuoi amici o delle persone per vedere cosa ti possono consigliare loro forse hai proprio bisogno di parlare con i tuoi amici per per farti dare una sorta di permesso dai tuoi amici nel senso che magari ti vergogni a rimetterti in gioco perché hai sempre detto il contrario e non vuoi che i tuoi amici o le persone che ti stanno vicine pensano che sei diverso da quello che hai sempre detto non lo so comunque se ti risuona questo messaggio sono contenta se ti è piaciuto metti un like se non sei iscritto al canale ti va ad iscriverti iscriverti iscriviti per ora io ti lascio e vado avanti col gruppo numero 3 in ogni caso fammi sapere magari nei commenti se ti sei rivista in questa lettura ciao gruppo 3 questa è la carta che tu hai scelto andiamo a vedere cosa dice e dice un sì per quanto riguarda l'amore se hai fatto una domanda specifica all'universo o ultimamente hai chiesto all'universo delle risposte per quanto riguarda l'amore la risposta è sì può essere che hai chiesto arriva l'amore sì può essere che hai chiesto e questa è la persona giusta per me sì qualsiasi sia la domanda che hai fatto all'universo devo lasciare questa persona sì la risposta è questa la risposta è sì andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi su questa tua situazione gruppo 3 allora vediamo un po' gruppo 3 sei sola o solo da tanto tempo ti sei lasciata alle spalle una situazione da un po' è un po' che stai camminando per il mondo da sola c'è qualcuno all'orizzonte c'è una persona nuova all'orizzonte che ti sta facendo un'offerta vedo che questa persona è più giovane di te ed è una persona che probabilmente non rappresenta quello che tu cerchi in amore perché penso che generalmente quando pensi a un amore ideale o a una persona ideale pensi a una persona matura una persona che ha una stabilità magari una persona anche che ha già una famiglia una persona che comunque è fatta e sistemata e a posto invece la persona che ti si presenta in questo momento è una persona forse più giovane o una persona magari non più giovane a livello di età però una persona che magari a livello di personalità è una persona un po' più giovanile più giovane immatura inesperta però una persona che comunque ti sta offrendo qualcosa è una persona che ti sta offrendo amore però vedo appunto che c'è un non sapere cosa farsene di questa persona allora io vedo che tu stai cercando di forzare qualcosa allora io penso che quello che deve arrivare arriverà comunque però ti stai mettendo in mezzo a te e al destino e all'universo stai mettendo i bastoni tra le ruote all'universo e lo stai facendo tu perché hai molti preconcetti in testa hai deciso tu qual è la persona o come è fatta la persona o qualsiasi cosa sia di cui appunto a cui pensi quando pensi al futuro e quindi quello che ti viene dato o presentato davanti lo scarti automaticamente pensando no non è questa la persona giusta non è questa la cosa giusta anche se tu ti metti in mezzo a rovinare i piani dell'universo in un modo o nell'altro questa cosa arriva io penso che questi tuoi pregiudizi ti stanno facendo allontanare da quella che è la tua il tuo intuito anche nel senso che non è proprio è come se stessi giocando a mosca cieca non non vedi quello che hai attorno ma in ogni caso nonostante ciò abbiamo questa carta la carta del sole che anche se al contrario è comunque una carta super positiva nel senso che quello che deve succedere anche se tu stai mettendo i bastoni tra le ruote all'universo e con i tuoi pregiudizi succederà lo stesso ok fammi sapere se ti risuona questa cosa gruppo numero 3 abbiamo la carta degli amanti ok io vedo proprio che cosa c'è altro di qua 4 di spade sì ripeto quello che ho appena detto sei da sola da un bel po' di tempo hai i tuoi pregiudizi e preconcetti su come deve essere la persona che incontrerai quindi hai una persona che ti si è presentata davanti che non è come la persona che volevi e gli stai rendendo la vita un pochettino difficile ok però la risposta degli angeli è di dargli un'opportunità a questa persona scusate mi cadono mi scivolano le carte ho cercato di creare un altare qua ma non non funziona devi dare una possibilità a questa persona allora vediamo un po' queste romance angels cosa dicono se non c'è una persona in particolare forse forse il messaggio è di di metterti di più in gioco di dare possibilità a persone anche quando non non ti non ti ispirano magari stai usando applicazioni come non lo so Bumble Tinder o quello che c'è e di conseguenza vedi delle persone o c'è qualcuno magari che ti sta scrivendo ma non ci metti tanto impegno perché pensi no vabbè ma tanto quella non è la persona per me in realtà